Buon lunedì e benvenuti a tutti in questo nuovo video. Siamo arrivati al giorno della scadenza, anche se in Lussemburgo, come ci hanno raccontato, e non solo in Lussemburgo, è festa e quindi hanno ancora 24 ore di tempo per dichiarare il loro fallimento. Si parla sempre di Zhang, Ohtri e Pimco, che stranamente è sparito dai radar. Ma non è soltanto Ohtri, non è soltanto Zhang a gelare il sangue dei tifosi interissimi, ma bensì anche il loro capitano, Lautaro Martinez. Perché Inter, clamoroso Lautaro Martinez, se non rinnovo questa settimana, non so cosa succederà. Attenzione, poi addirittura anche da Sky cominciano a prendere in mano le informazioni che devono dare, ma naturalmente le danno a modo loro. Sky, Zhang, Ohtri, penale di 50 milioni in caso di rifinanziamento con terza parte. Tre scenari, perché naturalmente ci sono sempre tre soluzioni per quel che riguarda la situazione dell'Inter. Ma tra questi scenari non c'è la più probabile. Le andiamo a leggere assieme e poi naturalmente le commentiamo. Io come sempre vi invito a mettere un bel like e a condividere a manetta questo video, perché la Gazzetta dello Sport di sicuro non vi parlerà del tempo ormai scaduto, ma vi parlerà di quanto è bella l'Inter, di quante opzioni ha di vendita questa società. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina per rimanere sempre attivo, ma queste ormai sono futili tali, conoscete già le regole del canale. A voi non costa niente, per noi è molto, molto importante. E pensare che per la Juventus, per pochissimo, per la carta Ronaldo, per i 10 milioni di euro che teoricamente è stato detto dai magistrati, dai giudici, che la Juventus dovrebbe risarcire a Cristiano Ronaldo a fronte dei 20, di quello che si diceva, si parlava di un bilancio falsato, un campionato falsato, che la Juventus addirittura doveva essere indagata per farsi un bilancio. E Retrocessa in Serie B invece. Per quanto riguarda Inter, o Actri, Pimco, Pif, tutti, cioè Sim Salabin, c'è addirittura la famiglia saudita, sembra più uno scioglilinguo, sembra più un mago Silvan quando faceva le sue magie. Quello che stanno cercando di fare un po' anche con chi dovrebbe informarci. Racconta sempre una cosa, poi te la cambia, poi te la ricambiano, adesso addirittura si parte, si continua, si va avanti con altri più forti di prima. Incredibile, ma vero. Andiamo a leggere innanzitutto che cosa racconta Lautaro Martinez, che gela il sangue ai propri tifosi. E naturalmente fa godere chi fino adesso ha sempre raccontato quello che ora sta succedendo. In barba ai giornali che tenevano tutto nascosto. Il numero 10, nonché capitano, che ha trascinato l'Inter a questa vittoria, di questo scudetto, di questa Marotta League, nonché seconda stella di cartone con il 18 più 1, ha chiesto, come ormai qualcuno sa, 10 milioni di euro di stipendio. Cosa che l'Inter non è pronta a dare al giocatore. Allora è incredibile quello che sta accadendo in casa Inter con il presidente Zhang che li ha messi nei guai economici, sia la società che i calciatori, giustamente, che ora vogliono andare via. Ora passerà nelle mani del fondo americano o altri, dopo che la famiglia Sunig non è riuscito a ripagare il debito. Strano, perché ci avevano raccontato che era già tutto ripagato. Le parole di Lautaro Martinez, le possiamo leggere qua sotto. Non so cosa succederà, sicuramente questa settimana, prima della fine della stagione, dobbiamo cercare un accordo, attenzione. Parole sul suo rinnovo e sul futuro dell'Inter. Altro che, come ci raccontava la Gazzetta dello Sport, è già tutto fatto. Barella, Lautaro, tutti i top player hanno già firmato, ce lo raccontavano un mese fa. Questa è la realtà dei fatti. Ma non è solo questa, non è solo Lautaro. Perché se ci andate per logica, un fondo che prende, una squadra, che già ha un miliardo di debiti, e al fondo gli è costato i 400 milioni del tappo, del bidone, del pacco che gli ha fatto il cinese, già sono un miliardo e quattrocento. Più, nel 2027 scade il bond di 400 milioni, sono un miliardo e ottocento. Come fa questa società, che naturalmente, questo holding, questo fondo, che naturalmente vive sui prestiti e sugli interessi dei prestiti, a pensare di spendere due miliardi per riportare in pari l'Inter. In pari, attenzione, non che poi abbia dei soldi da spendere nel calcio mercato. In pari, quindi è molto probabilmente, come qualcuno ha ipotizzato, si andrà verso la vendita dei giocatori che valgono di più, e su questo avranno sicuramente motivo ed interesse di rinnovare il contratto da Lautaro Martinez per poi poterlo vendere. Ma devi dargli 10 milioni di euro, intanto. E non è facile tirare fuori queste cifre quando non puoi nemmeno comprare i palloni. Quindi, la strategia sarà vendere i giocatori e poi, recuperando i tuoi 400 milioni, il primo che ti fa un'offerta anche di 50 mila lire, tu gli dai la squadra perché a Oktri portare avanti la società non gli interessa, non è interessata al caccio, quindi cercherà di venderla quanto è più possibile. Ma una squadra con tutti questi debiti, quanto la puoi vendere? E' questo il problema. A Sky si sono accorti che c'è anche questo scenario, la situazione di Sky, e di Sky, scusate, di Zhang, e di Pimco, e di Pif, e di Oktri, e un po' tutta la famiglia saudita che era interessato, il principato saudita che era interessato a comprare l'Inter, stanno scappando tutti. E allora, dal canale satellitare, il punto sulla questione finanziaria che riguardano il presidente Merdazzurro e il fondo californiano. Attenzione, al momento non c'è nessuna novità sostanziale sulla questione Zhang o Oktri. Che strano, perché quando si parlava di altre società c'erano novità, minuto per minuto, tutto spiattellato sulle prime pagine di tutti i giornali, anche giornali di cronaca parlavano di calcio. Così a Sky Sport, sulla questione societaria dell'Inter, attenzione, parlano i cronisti. Oggi allo stadio c'è stato, si parla di ieri, un ringraziamento nei confronti del presidente, che ha scritto grazie nelle sue storie su Instagram. Gli avvocati di Goldman Sachs sono costantemente al lavoro, anche se al momento sembra che tutto vada verso l'escussione del pegno da parte del fondo. Il numero uno Merdazzurro cercherà di non farsi portare via l'Inter. Vuole tentare di rimanere in tutti i modi. Un modo c'è, un modo c'è, paga e ti tieni l'Inter. Ci sono ben tre strategie, anzi ben tre possibili scenari che potrebbero succedere. Non quattro, non una, tre. Andiamole a leggere perché hanno veramente dell'incredibile. Questi sono i tre scenari. Uno, l'Inter diventa di OAC3 ed è lo scenario verosimile, visto che non ci sono novità e quindi si va avanti con OAC3. OAC3 spende miliardi per risistemare l'Inter, ma non si parla mai però di un possibile, eventuale, prospettiva che possa succedere quello che è successo al Napoli. Cioè, Lega Pro, fallimento, cambio del nome, rinascita del Napoli. Come ha fatto De Laurentiis, che con quattro mozzarella di bufala ha comprato il Napoli, che non è più il Napoli di Maradona e quindi c'è da ricordare che questo sarebbe il primo scudetto del nuovo Napoli. Ma queste sono sottigliezze che solo chi segue il mio canale sa. Detto questo, si dovrebbe partire teoricamente da, sì, il fondo OAC3 prende l'Inter, che non ha più potuto pagare i debiti fatti per iscrivere la squadra al campionato e per vincere i campionati e le coppe che si è portato a casa con i soldi che ha preso in prestito che non poteva, teoricamente, visto che non aveva i requisiti e le garanzie. Si dovrebbe partire da lì, dal cambio nome. Invece no, si continua con OAC3, non c'è nessun problema. La seconda, se nelle prossime 48 ore Zang chiude il prestito, resta proprietario dell'Inter. E via tutti a festeggiare. La terza, Zang attraverso gli studi legali cerca di allungare la scadenza pagando evidentemente per andare a reperire il debito rimanendo al timone dell'Inter, scusate, e rimandando comunque sempre ai problemi perché non lo paghi adesso, il finanziamento lo allunghi, lo dovrai pagare il prossimo anno, tra due. Quindi rimandi per rimanere al timone dell'Inter. Non si parla però assolutamente di che cosa rischia l'Inter. Non l'ho mai letto una volta. Se questo campionato è valido, visto che non ci sono le garanzie, visto che non c'è un piano di continuità, se si possono iscrivere al prossimo campionato, assolutamente no. Queste sono le informazioni che ci danno. È per questo che vi invito sempre a condividere a manetta i contenuti che vi porto perché sono pochi quelli che ve li raccontano, soprattutto non sono le testate giornalistiche, nemmeno Sky che sappiamo raccontare le notizie, un po' come gli fa piacere. Detto questo, il video finisce qui, non ti rimane che mettere un bel like, commentare col tuo pensiero perché è molto, molto importante, e condividere questo contenuto perché tutti devono sapere che ormai siamo arrivati alla frutta per quello che riguarda la squadra di Milano Sponda. Un saluto a tutti. Ciao a io.